ehi bella tra sette secondi in macchina boom boom solo io sei una ragazza splendida ricordo tutto della prima volta ricordi i tuoi capelli il tuo sguardo il tuo sorriso non ti deluderei mai ti ho sempre amata e per questo ti rispetterò per tutta la vita io sono quel genere di persone a cui puoi dire tutto sono qui per ascoltarti e a propos ti presento il mio ragazzo piacere marcello questa è la mano e questo è l'unccello oh mia pulzella vieni via con me nel mio castello e potremo finalmente copulare nelle mie vaste sale da pranzo tu aglieterai le mie notti tra una guerra e l'altra tra uno spargimento di sangue un altro soprattutto durante i periodi di guerra dove conquisterò gli altri castelli e taglierò le teste dei re e copulerò anche con le mogli dei re morti tutto questo ovviamente pensando a te ma che c***o dici come non conosci astel castle te lo spiego io vuoi diventare il lord di un vero castello medievale scarica adesso astel castle attraverso il link che trovi qui sotto inserisci il tuo nickname e ottene un bonus speciale riservato nuovi giocatori 250 diamanti e 3500 golds potrai espandere il tuo castello attaccare le fortezze degli altri giocatori sconfiggere le loro truppe e rubarli le risorse per potenziare il tuo castello dovrai sconfiggere orchi giganti scheletri e draghi per sconfiggere il demoniac lord degli abissi trova il mio clan di nome frenchman e giochiamo insieme tornerò quando l'avrai scaricato anche tu ho avuto due relazioni con giacomo guarda un po come mio fratello si chiama e poi con alessio che è nata di merda senti prima che continui a parlarmi della tua noiosa vita che non mi interessa e non mi interesserà mai volevo puntualizzare che sono qui solo per una cosa papà lei non si vuole fidanzare con me perchè non ti vuoi fidanzare con mio figlio eh eh ma non ti vuole più di più papà falla di meno ma falla di meno te te e te dopo puoi fare? figa l'altro pomeriggio ho acquistato la mediaset cioè non sapevo che fare ho comprato la mediaset poi ho fatto un giretto a trani qui nelle vicinanze e che cosa ho fatto ho comprato due yacht scusa uno per me uno per il mio cane cioè ci mancherebbe che faccia girare il cane senza yacht eh no eh no e poi cos'altro ho fatto cos'altro ho fatto sono andato da Witton a Bari e l'ho dilagnato il negozio ho comprato tutto ho comprato anche i commessi che ci lavoravano dentro cioè guarda è stata una cosa pazzesca ehi sapevi hai portato a posto? eh sì guarda mi trovo per caso a passare ti ho visto ho detto ma non è che mi vuoi ridare la dieci ore che ti ho preso due settimane fa ciao scusa sei da sola? allora prendo la sedia ah scusami prenda che posso accedere scarica sul castle dal link in descrizione mi sveglio e poi scendo qua cambia il volo quel tram che mi porta fino al vicolo più piccolo in città poi mi spieghi come mai le sborgne col bombay sono più belle di quelle col tankerai come mai in un attimo le casca sia la gonna che gli slip lei rimane tutta nuda con ai piedi le stance me vedo pablo lontano che